beh direi che questo qua non è cioccolato direi te ne ne oggi mangeremo insieme questi cioccolati che ho fatto io ma spero vuoto quando passiamo a questi qua dentro c'è la vita qua dentro cioccolato al latte dentro il tuo posto di neve sempre il cioccolato aspetta faccio anche il cestino di cioccolato a meno quale mi prende questo quando l'ho assaggiato da quando sono tornato la croce ma l'idea ma anche questa è un pezzo del del manico sta buono vabbè questo è mi piace al video ancora il fatto di a mano perché io ho tenuto un cosiddetto di cioccolato quindi c'è sino più gli animaletti sempre il posto di neve l'ho fatto ieri no l'abbraccio e i cioccolatini hanno fatti oggi vabbè ragazzi ciao comunque questo qua si trova da arbedro se non mi sbaglio vabbè è un segno di cioccolato anche il negozio e tutto ciao ragazzi mi piace iscrivetevi e continuate a te ciao